Ha rubato una borsa da un'auto parcheggiata a Domodostola in pieno centro, denunciato dai carabinieri. L'uomo, un 43enne, in vicolo Cuccioni, in pieno centro città, approfittando della momentanea distrazione della conducente di un'auto, ha aperto lo sportello al lato del passeggero, sottendo la borsetta lasciata sul sedile. Poi ha cercato di dileguarsi, ma una pattuglia del radiomobile, ricevuta la segnalazione della vittima del furto, si è messa sulle sue tracce. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alla descrizione fornita dalla donna, sono riusciti a identificare il sospettato già noto alle forze dell'ordine. La borsa è stata ritrovata poco distante dal luogo del furto e il responsabile, MD, di Crevola Dossola, è stato rintracciato. Ai carabinieri ha spiegato che alla base del suo gesto non c'era una reale necessità, ma che l'occasione fa l'uomo ladro e che vedendo la borsa sul sedile non ha potuto fare a meno di rubarla. L'area furtiva è stata già restituita alla vittima. E sempre i militari del radiomobile sono intervenuti nella notte di domenica nel centro cittadino per un incidente stradale che ha coinvolto LL, un 23enne residente a Villa Dossola, che percorrendo via Cassino ha perso il controllo del veicolo proseguendo a forte velocità oltre lo stop, attraversando l'incrocio la carreggiata e terminando la corsa nei giardini pubblici. L'auto ha arrestato la marcia non prima di aver divelto la siepe e aver abbattuto la recinzione di protezione dei giardini senza fortunatamente coinvolgere altre auto passanti. Il giovane risultato ubriaco l'alcol test è con un risultato di 2,48 grammi per litro, ben quattro volte superiore al limite consentito. La patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca.